Una settimana in crescita per la Galleria Ivan Bruschi, che a pochi giorni dall'apertura festeggia le oltre 400 presenze. Una giovane coppia di Trevisom, Martina Manfè e Christian Pessot, ha fatto raggiungere il ragguardevole traguardo al nuovo spazio espositivo della Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da Nuova Banca Etruia. I turisti premiati con l'ingresso omaggio alla Galleria e alla Casa Museo di Ivan Bruschi, sono precisamente i 440esimi. La giovane coppia ha scelto Arezzo per trascorrere queste giornate di vacanze e la loro visita è stata una delle 400 registrate dalla Galleria nel corso di questa settimana di agosto. Quasi 450 presenze in pochi giorni è la cifra raggiunta dalla Galleria grazie all'esposizione del ritratto di San Francesco di Margarito d'Arezzo, a cura della Diocesi, proveniente dai Musei Vaticani, e la mostra L'età dell'oro, riflessi di Piero della Francesca, un'esposizione dedicata alla valorizzazione degli argomenti per francescani, un omaggio a Piero della Francesca in un'ottica nuova ed originale che comprende le opere dell'artista Francesco Pignatelli all'interno della sezione Reversed Piero, a cura del critico d'arte Fabio Migliorati, e una mostra video immersiva del tutto nuova, un'esposizione sensoriale che guida il pubblico alla scoperta dei capolavori e del genio di Piero della Francesca in modo dinamico e spettacolare, animata dalle immagini delle più importanti opere di Piero della Francesca. Grazie a tutti.